Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. In A11, 2 km di coda per incidente ormai risolto tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. In A1, 1 km di coda per incidente tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma. Ancora in A1, code a tratti per traffico intenso tra Roncobilaccio e Calenzano in direzione Roma. E traffico rallentato tra Calenzano e il Vivio A1, variante di Valico Baccheraia, in direzione Bologna. Sempre in A1, in direzione Bologna, corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Possibili disagi per la viabilità. Sul raccordo Siana-Firenze per interventi di potatura delle alberature e scambio di carreggiata tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa Sud, fino al 7 di novembre. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!